All'epoca l'altro colossal americano era via col vento, però dai, è molto molto leggero, amore sì, forse anche convenienza, poi lui a un certo punto se la scopa la grande dà rabbia e questa lo ama a quel punto lì, dopo che gli ha rovinato la vita, non so, io sono uno psicologo, non voglio sapere queste cose.